Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui perché voglio mostrarvi la stella, quella che è comunque segreta, quindi della settimana 3 Non mi dilungo ancora in chiacchiere e andiamo direttamente a guardare dove si trova la stella Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per dei prossimi video futuri Bella ragazzi, a tra poco Eccoci qua ragazzuoli, stiamo andando nel punto esatto dove si trova appunto la stella segreta della settimana 3 Quindi delle sfide della settimana 3 Mi raccomando come vi ho detto già prima, tanti like e ovviamente tante condivisioni e iscrivetevi al canale Allora, la stella segreta dovrebbe essere qui Eccola qua ragazzuoli, ecco che appunto il punto esatto della stella segreta è tra rapide rischiose e bosco oblaterante in questo preciso punto Ok? Qui vi faccio vedere tutta la mappa completa Qui c'è Nico con il puntino rosso Il puntino blu è appunto il puntino della stella segreta appunto di quando Mi raccomando ragazzi, questa stella segreta la troverete solo esclusivamente se completate tutte le missioni della terza settimana delle sfide Ok? Perfetto, adesso la prendiamo insieme a voi e io vi ringrazio per la visione Ovviamente ringrazio anche Nico che ci ha fatto compagnia in questa guida E niente ragazzuoli, alla prossima, un beso, ciao belli